Mi inchino davanti al coraggio e alla dignità di questa signora. Di Rosalba. Esatto, questa è la cosa che ha più peso in questa fase tristissima perché ha perso un marito in condizioni poco chiare che lo Stato italiano stesso attraverso i servizi, attraverso il governo ancora non riesce a far emergere. Questo è un altro dato politico più preoccupante. Mi auguro che mercoledì, quando Gentiloni verrà a riferire sul complesso della situazione libica in Parlamento, dia qualche elemento in più perché ci sono effettivamente tantissimi lati oscuri in questa vicenda che fanno pensare a un po' di dilettantismo, ma dilettantismo che poi purtroppo è stato pagato sulla pelle di due lavoratori. E non è accettabile che il Presidente del Consiglio dica non dovevate essere lì. Stiamo parlando di persone che operano con aziende che hanno tutta una serie di regole di ingaggio molto ben chiare, specifiche, che mettono a punto proprio con il governo stesso per poter essere presenti su quel territorio. adesso che il Presidente del Consiglio dica cosa ci facevano lì dà la misura del gran cialtrone qual è nel gestire cose così delicate.